E ragazzi io sono Feri Niki e io sono Stef e quest'oggi apriremo la mystery box della Disney ve l'avevamo già spoilerata qualche giorno fa se ricordo bene e devo dire che da quello che so è stra pieno di getti giusto Feri? Tutti a tema Disney Tutti a tema Disney ovviamente ma da quello che so dovrebbero essere davvero tanti pesa parecchio? Eh un pochino vuoi provare a prendere No no la tieniti tu qua va benissimo Allora non è esagerato molto pesante ma non è neanche leggerissimo mettiamola così Stavo cercando le forbici e non le vedevo Allora iniziamo ad aprire Ok Secondo me sarà piena zeppa di pupazzi Devo dire Molto probabile perché se ne trovano un bot di pupazzi di Disney Esatto Quindi quasi sicuramente sarà pieno Si apre Dall'altra parte dobbiamo tagliare come Potevi fare un po' di E se no Stef strappi tutto Ok allora Non puoi vedere più di così Eh anche tu però E fatti guarda te Ok guardiamoci Vai prendi qualcosa Voglio andare in fondo però Perché? Boh Stef è difficile è pieno di roba tutta incattrata Ma ho tirato fuori una cosa brutta E vabbè Feri ma se tu vai in fondo Era l'unica cosa che riuscivo a prendere Esagerato Vediamo un pochettino Che cos'è? Ah ho già capito Ok Ok Sì è la macchinetta di Cars Ok Però carina come è fatta Vediamo se riesco a farvela vedere Ma penso proprio di sì Fotocamera va da fuoco Ascoltiamoci Invochiamo il suo potere Quasi Dai Eccola Yuppi ce l'abbiamo fatta Devo dire che è molto carina È fatta super bene E poi comunque Non è piccola 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 Cioè è abbastanza grande Ora non sembra di fuoco Se torniamo a fuoco noi Grazie Grazie Dicevo è abbastanza grande Sì Beh è carina Sembra fatta anche in metallo Non in plastichetta brutta Quindi boh Direi che è carina Ci sta Ci sta Posso sicuramente però Fescare di meglio Perché qua si vede tutto È strapiena Ok Che è? Stiamo prendendo solo cose strane All'inizio Ma se ti servono le forbici Tieni No no Stef non utilizza Stef non utilizza cosa? Stef non utilizza Qualcosa È una porraccia? Che è? Sì Sì Non sembra un granchè Lo sai? Che ti devo dire È una porraccia di Winnie the Pooh Sì esatto Ma Winnie the Pooh è della Disney? Sai che forse Penso che sia Cioè prodotto Capito? Nel senso che Lo pubblicano Ma non l'ha disegnato Non è della Disney Proprio disegnato E pensato Credo è Non sono così aspetto Questo roba è fighissimo Cioè Opla E riesce la canuccia Ah è vero Però Boh Cioè vabbè Sembra molto un prodotto Da bimbi Ma proprio di tre anni Capito? Puzza un po' Vabbè Vabbè è normale Neutro Abbastanza carica Perè riusciamo a pescare qualcosa di decente? Sì dai Cioè La macchinina decente Passabile Però niente di che Questa roba La borraccia È proprio orribile Ok Ok Va già meglio Stitch Stitch Non è lì lo Stitch Sì Perdonatemi non ho mai visto quel cartone animato Mi manca Sì Lo so Dicono tutti che è bellissimo Io non l'ho mai visto Te lo giuro Quindi penso Si chiami Stitch Che cos'è il mano? Una specie di Non lo so Magari hanno fatto più di un film Ho visto il film ma non mi ricordo Secondo me è il suo stesso pupazzo Comunque c'è il pupazzo che aveva È bellino Fanno ridere le ali Che si muovono tantissimo Sembra di un boss Però vogliamo rimanere in te È davvero enorme Davvero davvero grande È bellino Sì ci sta Bello morbidoso Ci sta Questo mi piace Appoggiata Che parte Non lo voglio lanciare Poverino Lui non merita di lanciare via Allora Guarda Steph L'ho trovata una posizione perfetta Io sto rischiando di nuovo Oddio Questo piace a fare Non l'hai visto Che la sto facendo Era appoggiata Nella mia spalla Lo metto qua nella sedia L'avevo visto Steph Sappiamo già che hai fatto Adesso non perdiamo tempo Vediamo L'etichetta Allora dato che però questa è per Ferre Io pesco più cos'altro Sono tutte morbidose fatte di peluche Aspettate È vero che è pieno di roba incastratissima Comunque Ferre non stava mentendo Cos'è questa cosa tipo Mi stanno bene Oh sì Sono carine C'è un po' l'etichetta sparata Però dai Ci sta Ci sta Sono carine Vediamo Che altro trovo Oh Questa è carina Questo arriva già meglio Questo arriva già meglio E poi comunque è un action figura Valt my gear Penso sia un giocatto Lo Steph C'è un giocattolino Lo proviamo Action figure Sono più cose da collezione Quindi penso sia un giocattolo Dalla confezione Mi sembra proprio di quello che trovi Nel negozio Perché è molto complicato Questo da frida Eh lo so Immagino C'è proprio di quelle robe Super magari difficili Sì Che una cazzaforte È più facile E porca miseria Senti Senti che brutti rumori Senti senti Sto per spaccarmi Ce la fai Steph Ok sì ce l'ho fatta Allora Ok vediamo com'è Carino Ma tipo muove le ali Fa qualche luce No Ah le ali si piegano Le ali le puoi Ah è così aspetta Esatto Ok È carino Si possono muovere Tutte e due le mani Ok Si possono muovere ovviamente Le gambe come si vuole E si può chiedere anche questo No era chiedere troppo Era chiedere troppo Eh dai era chiedere troppo Però è carino Io da piccolina Ne avevo uno così gigante Insieme a mio fratello E parlava Diceva le frasi del film Perché io e mio fratello E avevamo fissatissimi contestori Quindi avevamo un botte di giocatore Neanche i budi A me non credo Si è mai piaciuto molto Un film della Disney Tutta la mia vita No ho detto I stori Visti tutti È uno dei miei preferiti Li ho visti tutti Anche quelli nuovi Ci sono andato a vederli anche da grande Quindi No vedi Io neanche ho guardato il terzo È il terzo l'ultimo Sì Io ho visto tutto Steph mi è capitato Questa di abnorme Quanto è grande scusami Allora è chiaramente Anna Elsa è Anna Come si chiama la sorella Non lo so la sorella Ma mi chiedi troppo Mi pare Anna L'ho visto ma non ho idea Mi pare Anna Mi pare Anna Ce la fai? Sì Adesso apro Sicura? Sì Questa roba è gigantissima L'ho notato Allora sì È più o meno Quanto sarà non lo so È più alta di me È troppo carina Bellina è che come sono fatti i vestiti Sì È altissima Altissima Bellina È tutto fatto a peluche Quindi è risultato tutto molto morbido Bellina è che i vestiti Dai è carina Anche il mantellino Si muove tutto Possiamo muovere un po' tutto È davvero grande Ed è carinissima Bellina questa Questa mi piace un botto Però È più bellina di Stitch Secondo me Sì Anche la faccia poi fatta molto bene E ben curata Mi piace un botto A me piace pescare queste cose Che sono chiuse Perché è una doppia apertura E quindi diventa tutto ancora più interessante Questo è sempre sui suoi Però secondo me È l'alieno Si vede già È mezzo trasparente Speravo fosse di Monster School Ah sì bene Sembrava no Un po' poteva ingannare Allora Vabbè questo si riesce ad aprire facilmente Non capisco di che materiale è fatto Questo dovete essere sincero Perché mi sono molto curioso Perché per cui lo sto osservando Allora Ok Quella plastica dura È presente? Ma No non fa niente Proprio sì Plastica dura Però è bellino Ah sì No è carino Fa ridere Fa ridere È carino Ci sta Però Boh Che ti tocca di nuovo a me Vorrei qualcosa di più entusiasmante Fede Non riesci a trovare qualcosa di tipo super mega Figo Che dice Oh mio dio È pazzesco C'è una scatola qui Prendiamo questa Vai la scatola No aspetta Facciamo uscire tutto Fede Vabbè raga Ho pescato un po' Ormai li ho visti Ma li vedremo meglio dopo Questa volevo prendere Che sta roba Fede Ma A parte che questa qua Potevi appoggiare via Vabbè sono appoggiattini Così chiudiamo questo Allora Sono birilli E li vedo qua dall'altro I birilli della Disney Birilli di topolino Topolino Mickey Mouse and Friends Ok c'è scritto Quindi topolino Ah questa c'è una palla da bowling Puoi vedere i birilli I birilli Ma sono un po' ammaccati Quello è un po' ammaccato E beh è normale Queste scatole così Vabbè sono plastica Molto leggera Chiaramente sembra un giochino Per bambini piccoli Però dai non è male Alla fine se sei piccolino Diciamo che va bene Perché non ti fai neanche male Mentre ci giochi Eh almeno il bowling è divertente Questa è un po' ammaccata Peccato Aspetta Ah no guarda Si sistema dai Si sistema facci il niente Fai un po' così È tornato normale Ma vuoi cercare di giocare a bowling È finito tutto No non me la sento Cioè O no No dai Sono troppo Facciamo vedere tutti Tutti quanti sono Sono sei Allora Si si Io inizio a pescare Qualcos'altro Quanti questi due Ci sono Che è? Ah è di frozen Ok Forse ho capito Con questo secondo me Possiamo giocare Ok Allora Credo che siano tipo Dei piatti In cui devi fare Centro con le ventose Una testa Ah Hai capito? Queste sono le palline Ah si Lo devi mettere Tipo così Così Lo devi tenere nella mano Giusto? Esatto Dammi una pallina Ah si attacca Oh Steph Oh Steph Si si attaccano Si attaccano e si staccano subito Però dai Il tuo è rimasto Simpatico Ah ma si illuminano Hanno iniziato ad illuminarsi Si vabbè ma Perché A me non si attacca Ok va meglio Si attaccano e si attaccano E tu lo devi staccano e ritirare E' simpatico Simpatico Vai Vai Sembra non si illuminano con me Si attaccano veramente A me è sempre il pericolo Quando fai sto lancio Infatti Però voglio capire Come ti illumini Ah ecco Le dà un bel colpo Si illumina Ma è simpatico Ci sta Ovviamente Almeno Mi auguro è questo Però è simpatico Almeno è più divertente Si Allora Via Ma ti tocca a me Via Si assolutamente si Appoggio questo Un altro scatolone voglio prendere Lo sto distruggendo Aspetta Porca miseria Che è in fondo Anche questo No questo Io ho mezzo aperto Mentre lo tiravo fuori Ok Cos'è il salvadanaio Lo faccio volare Te spalleranno Ecco Facciamo vedere E' un disastro Fere oggi Allora E voglio Begli oggetti Begli oggetti Questo è il salvadanaio? Credo di si Sicuramente Fammi vedere Tieni apri Che dice la scatola Che sia un salvadanaio E' carinissimo E' un po' scambierato Sinceramente non vi so dire C'è solo questa immagine Secondo me Silvia Ah si 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 Vedi che Nella pancia Via Per togliere le monete Quindi è proprio come quello del cartone Perché il cartone è un salvadanaio Allora Si muove la testa Quindi la potete far girare un po' come volete Però noi lo teniamo dritto E così Qua si mette la moneta Da qui si tolgono le monetine Calino E questo però È l'oggetto più carino Che abbiamo trovato Secondo me Sono d'accordo Sono d'accordo Questo ce lo teniamo Si Questo lo teniamo Lo mettiamo lì dietro E ci mettiamo le monetine Si Dai Ah va beh Facciamo vedere l'altro che ho pescato per sbaglio E' super carino Vabbè E' una spazzolina Mi sembra si Appoggia qua Adesso la faccio vedere di mini Ma Fare ti rendi conto Spazzolina molto carina Vediamo se funziona bene È ancora pieno Questa è bella Questa è bella Fettina bene perlomeno ragazzi Fettina bene Piena di nodi Perché i miei capelli sono sempre annodati Però fettina bene Che hai preso? Non sta bene? È normale? Boh Perché cioè La testa è staccata Aspettate Vuoi provarla? La spazzolina? No Perché no? È un mosto carina Non so Posso usare per pettinare i capelli delle mie bambole O anche i miei Perché alla fine ci sta Tieni Ah ma è Alice Forse è da montare Si è fatta a posta È fatta a posta Allora c'è il piedistallo Questo mi piace Penso mi possa piacere Cioè dipende da com'è fatta Se è fatta bene o è fatta brutta Allora Tieni Perché Alice è uno dei miei personaggi preferiti Proprio della storia vera Non quello della storia di Disney Però mi piace un botto Alice Aspetta Va? Tutta a posta? Sembra Sembra carina no? Molto carina Guardate Ci sta È carina questa Molto bellina Questa me la tengo È carina E allora Alice Bellina? Dai ci sta Ci sta Questa è molto bellina Eh è a fuoco Guarda qua è a fuoco Ok Al posto di stacca No questa è bellina Fammi vedere bene Tieni E io ne metto Ah la tua stacca un po' si muove Se notate rimane un po' che cionda Però no è bellina dai Scatolina Vedi che c'era qualcosa di monster Te l'avevo detto Che cos'è? Una tazza Una tazza Ah quello è il coperchio? Credo E che tazza hai del coperchio? Boh Sì il coperchio Vabbè magari per tenere al caldo le bevande Si possono Abbe devi bere Ma non è troppo in plastica? Sì Lei si fonde con il caldo tipo? No no Cioè esistono le toste Tecnicamente anche le tazze di plastica Per le stesse Sono per i bambini Perché le fanno sempre cadere Almeno non si rompono Capito? Quindi tranquillo che reggono tutto Carino Bellino questo Molto carino Vai E mi sa che prima Perché l'ho visto dalla webcam Ho spoilerato anche il buzz così Mi sa che dovrebbe essere la coppia Hai visto però che si può Questo è di quelli che si attacca? Ah bellino No stai Stai a tua fronte Perché hai fatto cadere Non mi hai fatto niente vedere bene Bellino Nei pupazzi E nelle bamboline La cosa più importante è la faccia Se hai fatto bene la faccia Sono anche carini Ce l'ho fatta Bellino questo Molto Bellino È davvero fatto bene Sì mi piace Ci sta Molto cibi Boh è particolare Allora Via Allora sto a finire Se rileggere la scatola Quindi non so Vuoi sapere quanti oggetti ci sono? Sì Uno Due Tantini Tre Quattro Cinque E prendo due Ok E sono in combo Ah li ho preso in combo No Paperina e paperina Bellini Ma sembrano troppo piccoli Voi sei paperina e paperina Sembrano più figli Ma penso che Sono più papà No Chiaramente Qua sono tre maschietti Quello è la femminuccia Ho perso Ti ho detto che non ho mai seguito troppo la Disney No penso che siano paperina e paperina fatti in versione piccola Cioè in versione loro bimbi Penso Bellini Bellini questi Sì molto Ci stanno Ci stanno Carini Sempre morbidosi come piacciono a me sti felici bellissimi Molto carini Vai ho preso una combo a fortuna Eh ma vabbè Ci doveva essere ovviamente Sì bene ma devi smetterla di prendere queste cose enormi È tutto a coppia Non c'è facile Non c'è facile C'è fatto caldo E poi è tutto a coppia Vabbè giustamente Prendi Anna e non prendi Elsa No Cavolo Steph Elsa è ancora più carina Guarda il vestito Cioè guardate qua Ho proprio aggiunto la mantella A me piace più la sorella Bellissimo anche il vestito E lì così La testa è un po' Cioè Elsa è un po' col colorotto Vabbè ci sta Sarei cos'è questa Sarina E se rivediamo la coppia Sono molto Un asciugamano Un mini asciugamano Davvero Vedete Sono molto belline loro due Sarei l'asciugamano Vabbè sì Sembra un mini asciugamano Tipo quelle salviette per le mani Che si chiamano salviette per le mani Che lo te li porti in giro Ci sta Ho pescato uno zaino Ok What? Allora pensavo avessimo finito Praticamente E invece mi sa che è ancora pieno Come lo apriamo Da qua Quanto è questo? Ah 25x50 Quindi piccolino Però dai ci sta Non è male Ho zainetto? Sì Volevo provare ad aprirlo Vai Allora si apre da qua Com'è dentro? Molto semplice Lishon Senza niente Senza tasca Sì Forse è un po' piccolo Dici? Minuscolo Non è malaccio Caruccio Certo Teoricato è della Mystery da Disney Dove vi piacere un sacco a fare Ma siccome è un maschiaccio Lei è un po' indifferente A me ovviamente Non è che fa impazzire Però Ah eccolo Almeno lui è carino Anche lui è troppo bellino Forse è più No forse mi piace più i cowboy Eh boh Woody e Buzz Vanno in coppia Non lo so Mi piace molto Eh ma è più bellino Woody secondo me Guarda Bellino? Ha un testone enorme Che altro? No Stefano abbiamo finito Era l'ultimo? Sì guarda No per è Come no? Ah non li ho visti Comunque A scatole vuote Adesso la tolgo Sono Due forcine E un fiocchetto Belline ste robe No Un elastico Stef si vede che non conosce i prodotti Femminili Vabbè Comunque Il mio agendo preferito è questo Senza ombra hai dubbio L'unica cosa che merita Secondo me In tutta la Mystery Non mi piacciono le cose Disney Non è colpa mia Secondo me Sono più belle altre cose Comunque È davvero carino questo Questo qua lo voglio da qualche parte Piace Non ti piace Non mi stanno bene Combinando tutto No cara È tutto di mini Quindi tecnicamente È tutto abbinato Comunque no Allora anch'io Mi oggetto preferito Allora Il mio oggetto preferito Questo è bellino L'elastico Ovviamente adesso non mi leggo i capelli Mi è piaciuto un botto Alice Ok Perché vabbè Alice è il mio personaggio Disney preferito Anch'io non sono troppo amante Magari a differenza di altre ragazze Che vanno matte Per la Disney Però diciamo che I miei cartoni preferiti Sono comunque Alice E i tuoi story I tuoi story Adoro i tuoi story Quindi sono felicissima Che ci sia stato un botto di roba I tuoi story E non lo so Il preferito Fammi rivedere qua Boh C'era un botto di roba Secondo me è salvare il denario Allora io voglio dire Alice E i due pupazzini Dove hai fatto finire Woody? Qua Woody e Buzz Che mi sono piaciuti un botto Secondo me è molto più bellino Woody però In ogni caso Questi qua è il mio preferito Ecco le orecchiette di me Io ho sempre detto Se me andrò a Disney Lampary Me le compro E adesso ce le ho E vabbè le ricomprerò Però non sei andata a Disney Lampary In ogni caso Ci vediamo così Qua sotto come sempre Come gli altri video Iscrivetevi al canale E la campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao